Musica Devo dire che ci sono stati momenti di grande difficoltà fisica, ma senza esagerare. La prima settimana ho pensato, se sono altre sette così, me la vedo veramente dura. Nella preparazione non si era capito benissimo quanto sarebbe stata dura fare questo film, perché ha tutta la componente tecnica della spada. Abbiamo dovuto aggiungere il fango, il freddo, che ovviamente rendono tutto molto più complicato, ma assolutamente tutto più bello. Il tevere esonda. La sequenza mi spaventa e mi preoccupa molto, sia perché non è mai stata affrontata in Italia, sia perché richiede l'unione di diverse tecniche che devono essere infezionate insieme. Tutto la teore freddo Grazie a tutti.